Immaginate un momento nel quale la scienza e la spiritualità si incontrano in un modo straordinario. Un incontro che va oltre i confini delle nostre aspettative e riscrive le regole del pensiero. Elon Musk, l'illustre innovatore che ha ridefinito il concetto di futuro, ha recentemente condiviso una rivelazione che ha cambiato il corso della sua vita. Non in un affollato auditorium o durante una conferenza stampa, ma nel comfort della sua casa, ha avuto la visione di un'esperienza trascendente, un incontro inaspettato con Gesù. Dopo una frenetica giornata trascorsa tra le sfide delle sue innumerevoli aziende, Musk si è addormentato, solo per risvegliarsi in un sogno che sembrava estratto da un racconto ancestrale. Circondato da una foresta oscura e avvolgente, dove ogni passo sembrava carico di mistero, avvertì un profumo delicato nell'aria e una luce soffusa che filtrava attraverso le fronde. Quella luce lo condusse verso un maestoso albero, attorno al quale vibrava un'aura di calore e pace. E lì, in quel paesaggio onirico, scoprì Gesù Cristo, la scintilla luminosa di quella notte magica. La presenza di Cristo era avvolgente, un amore che trascende le parole, e il messaggio che gli fu affidato si imprimerebbe nel suo cuore per sempre. Amati figli, vi benedico. Un invito a vivere in armonia con le leggi divine e a lavorare secondo una volontà superiore, un rinnovato senso di scopo che non solo trasformò il pensiero di Musk, ma lo spinse a portare questo straordinario messaggio nel mondo. Così iniziò un dialogo universale, dove scienza e religione si intrecciano, invitando tutti noi a riflettere sulla nostra esistenza e sul significato più profondo della vita. Preparatevi a esplorare questa storia incredibile, ricca di riflessioni e spunti sorprendenti. La testimonianza di Elon Musk è solo l'inizio di un viaggio interiore che potrebbe cambiare anche voi. Sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per continuare insieme il nostro viaggio spirituale. Questo incredibile uomo, nato a Pretoria, continua a spingere i confini del possibile con aziende come Tesla e SpaceX, cercando soluzioni ai problemi più importanti dell'umanità. Tuttavia, il suo incontro con Gesù ha aggiunto una nuova prospettiva ai suoi obiettivi, fondendo le sue idee futuristiche con principi spirituali. Attualmente, sta indagando su come incorporare questi valori morali ed etici nelle sue operazioni aziendali. Questo potrebbe rivoluzionare il modo in cui diverse industrie bilanciano tecnologia ed etica. Questo messaggio sottolinea la necessità di vivere secondo i principi divini e di sviluppare una relazione più stretta con lo Spirito Santo. I frutti di una vita santa derivano dalle benedizioni del mio Spirito Santo. Perché senza di me non siete nulla, dice il Messia. Gesù ha anche predetto un evento importante che avverrà negli Stati Uniti nel 2024, che coinciderà con un miracolo di guarigione nelle case delle persone. Questa profezia ha attirato l'attenzione di molti, creando aspettative tra i credenti. Alla luce degli insegnamenti di Gesù, Masca ha trovato particolare risonanza nel comandamento di Matteo 22 e 39, ama il prossimo tuo come te stesso, sottolineando quanto sia importante creare una società basata sul rispetto e sull'empatia. Il significato del perdono è espresso in Matteo 6 e 14 e 15. Se perdonerete agli altri i loro peccati, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Questa è una delle lezioni più importanti di Gesù. Per essere liberi dal rancore e promuovere armonia e pace, dobbiamo praticare il perdono. Perché se non perdonerete agli altri i loro peccati, nemmeno il Padre vostro perdonerà i vostri. In Marco 10 e 45, Gesù afferma Poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per molti. Questo insegnamento ha spinto Masca a riflettere su come potrebbe usare le sue risorse e il suo potere per avanzare l'umanità oltre le sue attività commerciali. Queste idee ora fungono da bussola per Masca, trasformando il modo in cui gestisce le sue imprese e vive mettendo l'accento su valori spirituali e umani, oltre che sul progresso tecnologico. In linea con 2 Corinzi 4 e 18, che afferma Perciò non fissiamo lo sguardo su ciò che si vede, ma su ciò che non si vede. Poiché ciò che si vede è temporaneo, ma ciò che non si vede è eterno. Il suo percorso spirituale lo ha portato a esplorare gli aspetti invisibili dell'esistenza. Questo versetto sottolinea l'importanza eterna delle realtà spirituali rispetto al mondo materiale transitorio. Un concetto che Elon Musk ha iniziato a valutare profondamente dopo il suo incontro con Gesù. L'umanità è sempre stata affascinata dall'idea che il nostro universo sia pieno di dimensioni e forze invisibili. Trovi l'esperienza spirituale di Elon Musk illuminante come la troviamo noi? Se sì, clicca sul pulsante mi piace. Iscriviti per ulteriori informazioni e considera di esprimere la tua gratitudine extra utilizzando la funzione Supergrazie. La tua piccola donazione ci permette di creare più contenuti simili a questo. Le cose iniziano a farsi interessanti a questo punto. Gesù ha parlato del compimento delle profezie bibliche durante questo incontro che ha cambiato la vita di Musk, stabilendo un chiaro legame tra il risveglio spirituale di Musk e gli eventi mondiali attuali. Questa conversazione ha trattato i passaggi di Matteo 24, 6 e 7, in cui Gesù predice sconvolgimenti imminenti. Sentirete parlare di guerre e di voci di guerre, ma non siate allarmati. Deve avvenire, ma la fine non è ancora giunta. Nazione contro nazione Regno contro regno Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Il libro digitale, La verità dietro le profezie della Bibbia, scritto da Musk fa parte della sua missione di condividere le sue intuizioni spirituali. Questo libro fa ampio uso della Bibbia per approfondire la comprensione, esaminando il rapporto tra le profezie bibliche e gli eventi attuali. Cita passaggi come Apocalisse 1 e 3 Beato chi legge ad alta voce le parole di questa profezia. Beati coloro che la ascoltano e prendono a cuore ciò che è scritto, perché il tempo è vicino. Questo libro è diventato uno strumento prezioso per le persone in cerca di un equilibrio tra fede e ragione, offrendo consigli su come applicare gli insegnamenti di Gesù alle situazioni contemporanee e interpretare le difficoltà da una prospettiva biblica. L'oggetto enigmatico che Gesù ha dato a Musk, un simbolo di cui Musk ha tenuto segreti i dettagli, ha un'importanza simbolica che accentua l'impatto del suo incontro con Gesù e funge da promemoria quotidiano per vivere secondo gli insegnamenti divini. Nel sogno, Musk attraversa una foresta buia e densa, che rappresenta tutte le difficoltà della vita. Nel mezzo dell'oscurità, una luce tenue lo chiama, una luce guida che gli offre speranza e direzione spirituale, rappresentando la luce di Cristo rivelata in Giovanni 8 e 12, dove Gesù dichiara Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La scarsa visibilità e il sentiero poco chiaro che Musk ha percorso risuonano con l'esperienza universale umana, momenti di dubbio e confusione. La foresta oscura e incerta riflette le prove individuali e collettive che affrontiamo mentre cerchiamo significato e direzione. La Bibbia utilizza immagini sensoriali per rappresentare il divino. Il Cantico dei Cantici 4 e 14 menziona profumi e spezie come simboli della presenza divina. Questo incontro dimostra che, nonostante un viaggio oscuro e scoraggiante, la ricerca della verità e della guida porta a una luce salvifica e piena di speranza. L'esperienza onirica di Musk si riflette in Matteo 11 e 28, dove Gesù invita coloro che sono stanchi a trovare riposo in Lui e offre riposo e pace a chi è gravato. Questo passaggio biblico ci assicura che Gesù è una fonte di pace e conforto. La vita di Musk è stata completamente trasformata da questo sogno, che gli ha anche ricordato quanto sia cruciale cercare la luce nell'oscurità e avere fiducia nella guida divina per superare gli ostacoli della vita. Musk ha incontrato una luce che rappresentava guida e speranza mentre attraversava una foresta oscura. che simboleggiava gli ostacoli della vita. Questa luce richiama l'immagine biblica di Giovanni 8 e 1, dove Gesù dichiara Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questa luce simboleggiava sia la presenza di Gesù che la sua promessa di guidare e salvare coloro che lo cercano. In Giovanni 14 e 27, Gesù dice Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come il mondo dà, io vi do. Questo momento ha colpito profondamente Musk con quella pace. Non è la stessa pace offerta dal mondo esterno. Non sia turbato il vostro cuore, né si spaventi. L'esperienza di calma di Musk durante l'incontro si riflette in questo testo, che enfatizza una pace divina che dissipa le paure e favorisce un forte senso di sicurezza. Questa esperienza è paragonabile al conforto e all'invito di Matteo 11 e 28, dove Gesù invita Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Musk è stato ispirato a condividere questo amore e conforto nelle sue interazioni e nelle sue attività, creando ambienti di lavoro rispettosi e cooperativi. L'oggetto che Gesù ha dato a Musk nel suo sogno, un artefatto spirituale che simboleggia la presenza fisica di Dio tra il suo popolo, serve come costante promemoria di questo incontro e delle lezioni apprese. Il suo significato simbolico è simile a quello dell'Arca dell'Alleanza, descritta in Esodo 25, 10 e 22. Che sia un oggetto sentimentale o un simbolo cristiano convenzionale, questo oggetto funge da bussola spirituale, dirigendo Musk a vivere secondo la moralità, l'amore e la fraternità insegnati da Gesù. Le parole ispiratrici di Gesù a Musk riassumevano questi valori. Esse riecheggiavano il nuovo comandamento in Giovanni 13, 34 e 35, che dice «Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gesù ha esortato Musk a vivere in armonia e a portare amore in ogni situazione. Se vi amerete gli uni gli altri, allora tutti sapranno che siete miei discepoli. Oltre a offrire una direzione spirituale, Musk ha iniziato a mettere in pratica questo comandamento sia nella sua vita personale che negli affari, creando ambienti di lavoro rispettosi e cooperativi. Musk ha reso pubblica la profezia di Gesù su un grande evento del 2024, che sottolinea la necessità di preparazione mentale e spirituale e richiama l'idea biblica trovata in Amos 3 e 7. Questo versetto sottolinea l'importanza della rivelazione divina e della pianificazione anticipata per gli eventi futuri. Il Signore Sovrano non fa nulla senza rivelare il suo piano ai suoi servi, i profeti. La profezia ha rafforzato il legame tra i seguaci di Musk e la Bibbia, incoraggiandoli a cercare guida e migliori metodi di preparazione insieme, oltre a creare un senso di urgenza. Musk sperava che, rivelando questa rivelazione, avrebbe incoraggiato le persone a seguire i precetti morali insegnati da Gesù, promuovendo armonia e fraternità. Secondo la rivelazione di Gesù a Musk riguardo all'evento del 2024, si verificherebbero eventi miracolosi nelle case delle persone, portando una presenza unica percepita come bontà e pace e innalzando l'ambiente ordinario a un livello sacro. Matteo 18,20 Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, corrisponde a questo. Questo passaggio afferma la santità del nostro ambiente domestico, ribadendo l'idea che la presenza e i miracoli spirituali di Gesù possano manifestarsi ovunque. Gesù sottolinea l'importanza della preparazione spirituale, dando a maschi istruzioni esplicite per un atto di devozione collettiva per prepararsi alle manifestazioni divine. L'ammonimento a essere vigili in Matteo 25,13 Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora, sottolinea questa lezione e chiama i credenti a essere sempre pronti agli atti e alle benedizioni di Dio. Nel secondo libro delle cronache 7,14 l'autore afferma L'enfasi di Musk su questa devozione comunitaria richiama il tema biblico della comunità nelle pratiche religiose. Grazie per essere stati con noi fino alla fine. Se questo racconto sorprendente dell'incontro di Elon Musk con il Divino ti ha colpito, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti incredibili. Hai trovato commovente questo video? Fai clic sul pulsante super grazie per supportarci e aiutarci a creare sempre più storie straordinarie da condividere con voi. E ricorda! La condivisione è importante. Condividi questo video con amici e persone care che potrebbero apprezzare queste esperienze ispiratrici straordinarie. Vuoi scoprire di più? Non perdere i nostri prossimi video nei quali esploreremo le esperienze profetiche e di altre celebri personalità e i loro incontri con Gesù. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie di cuore da Ricarica Mentale